C'è il gigante buono della Valle Peligna e il maresciallo De Nassin Concedo, ma anche la coordinatrice del tribunale per i ditti del malato, la figlia del carabiniere ucciso nel Bergamasco, la consigliera comunale che ora si è riscoperta leghista. Sta riscuotendo interesse come di consueto la nostra iniziativa dedicata a personaggio dell'anno. Nel giro di pochi giorni sono 277 gli utenti che hanno visitato il gioco sontaggio, ma non tutti hanno deciso di completarlo ed esprimere la propria preferenza, forse per ponderare bene la scelta, perché il gioco implica comunque una logica e una rilettura dei fatti principali dell'anno. Al momento sono diversi i nomi in corsa, i voti risultano ancora sparpagliati, anche se in quattro stanno incassando il maggior numero di preferenze, almeno per il momento. Si tratta del sulmonese Carlo Di Ruscio, noto come l'uomo degli aforismi, ma delle motivazioni in tanti lo stanno votando per la medaglia d'oro ottenuta dal NAS di Pescara, per i meriti di servizio, ma anche per l'impegno speso a difesa dei consorzi di bonifica. Torna il nome dell'avvocato Catia Puglielli nella sua veste di responsabile del Tribunale per i diritti del malato, un impegno nel volontariato a difesa degli utenti più deboli che molti stanno apprezzando. Preferenze sono arrivate anche per Saranzini, la giovane di Sulmona figlia del compiante Emanuele, il carabiniere ucciso in un posto di blocco nel Bergamasco. Il riferimento è le parole spese nel giorno delle segui del padre, quando la ragazza ha detto «Ti ha ucciso l'ignoranza». Non manca qualche voto per la consigliera comunale Roberta Salvati, un'indicazione che arriva proprio in concomitanza con il suo passaggio alla Lega. Dal PDE passa dall'azione politica nelle ultime regionali per poi salire sul palco con Salvini. Evidentemente tra i fatti dell'anno qualcuno ritiene che debba esserci anche questo. Per votare però c'è tempo fino al prossimo 30 dicembre, basta visitare il nostro sito internet www.ondadv.tv e cliccare sull'icona personaggio dell'anno. Basterà seguire le indicazioni e attenersi al regolamento sotto a chi tocca.